Buongiorno a tutti, un caro saluto da Francesco Samadri. Allora, oggi abbiamo l'opportunità di andare ad approfondire tutto quello che è funzionale alla prova preselettiva per quanto riguarda la normativa ed è funzionale sicuramente anche alla prima prova per quanto riguarda poi le conoscenze delle competenze didattiche richieste. Quindi sicuramente possiamo ormai scrivere concorso scuola, sicuramente abbiamo detto che questo argomento che tratterò non è specifico solo della prova preselettiva ma è proprio utile ai fini del superamento del concorso scuola, quindi non vado ad inserire concorso ordinario, concorso abilitante, prova preselettiva. Tratterò di argomenti abbastanza importanti. In particolare la competenza personale, la competenza sociale e la capacità di imparare ad imparare, che è veramente importante. Quando alla fine dell'anno si devono consegnare i programmi svolti, spesso, oltre al programma, insomma vanno inserite anche le competenze e anche il percorso che dalla teoria porta gli studenti all'applicazione pratica dei concetti e ovviamente l'imparare ad imparare è veramente importante. Anche detto è anche una competenza chiave che riguarda in realtà poi tutta la vita, l'apprendimento continuo ed è anche il presupposto necessario che possiamo collegare all'esercizio del diritto alla cittadinanza. Così cerco di collegare i vari elementi tra di loro. Vi è anche una raccomandazione dell'Unione Europea del 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Anche questo conviene evidenziarlo, che delignava essenzialmente l'imparare ad imparare definendo, dando anche una definizione di essa, di questa competenza. E quindi anche potreste trovarvi la domandina, imparare ad imparare cos'è? E la domandina è, la risposta alla domandina è l'abilità, lo metto virgolettato, proprio quello che sostengono, è l'abilità di perseverare nell'apprendimento. Poi un altro punto fondamentale di organizzare il proprio apprendimento tempo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni. Anche mediante una gestione efficace di parametri comunque che sono sempre fondamentali del tempo. e delle informazioni. Poi, in realtà proseguono, dandone anche una definizione di competenza. imparare ad imparare è una competenza che comprende, relativa alla consapevolezza del proprio processo corso di apprendimento, dei propri bisogni e anche l'identificazione delle opportunità disponibili, disponibili, scusate, è l'identificazione delle opportunità disponibili, della capacità e questo anche si rileva, si ricollega alle metodologie didattiche creative, tra le quali per esempio il concassace che abbiamo visto recentemente, no? Che ci aiuta a risolvere problemi nuovi. quindi è l'identificazione delle opportunità, ma anche di superare, sormontare, gli ostacoli, anche nuovi, per apprendere in maniera efficace, per l'apprendimento efficace. e questo anche è importante evidenziarlo, richiudo le virgolette, ho tradotto dall'inglese, ma è questo il senso. quindi in realtà imparare ad imparare è un'abilità, ma è anche una competenza, come abbiamo detto. quindi significa che la persona deve conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento preferite, lo sto riformulando quindi questo concetto, deve conoscere i propri punti di forza, i propri punti di ipolezza, sicuramente deve cercare di rendere l'istruzione un'opportunità di formazione e ripeto che è anche una competenza chiave di cittadinanza e ha una natura metodologica, metacognitiva e sociale metacognitiva e sociale anche il dm del 2012 riprende questo concetto il decreto ministeriale quindi vi lascio anche dei riferimenti normativi poi questa competenza di imparare ad imparare deve essere acquisita al termine dell'istruzione decennale obbligatoria secondo il decreto ministeriale 2007 e poi del 2010 dm 2007 e poi il decreto 2010 mettiamo una feccetta stabiliscono che imparare ad imparare questa abilità o competenza quindi l'abilità o la competenza di imparare ad imparare devono essere acquisite devono essere acquisite entro il termine dell'istruzione decennale obbligatoria quindi entro la scuola dell'obbligo anche questa potrebbe essere una domanda di legislazione però come vedete poi tutto si può ricollegare anche ad un'eventuale risposta scritta o addirittura alla prova orale quindi è difficile sostenere che questi concetti siano specifici solo di una prova e non dell'altra abbiamo detto che imparare ad imparare coinvolge un insieme di aspetti metodologici metacognitivi e quindi riguarda dopo io ve li illustro vi illustro tutte le varie parti e poi ve le riprendo così se qualcosa non è chiaro lo andiamo sempre ad approfondire quindi abbiamo detto è una metodologia e coinvolge un aspetto metacognitivo anche sociale e riguarda le strategie di studio l'attitudine ad affrontare la capacità ad affrontare riflessioni relative al proprio stile di apprendimento ad esempio bisogna chiedersi come possiamo potenziarlo la consapevolezza dei processi mentali attivati io scrivo in generale consapevolezza ovviamente dei processi sia attivati sia quelli attivabili durante l'apprendimento stesso e quindi più in genere possiamo dire che l'attuazione dell'apprendimento all'apprendimento il bravo docente quindi dovrebbe essere capace da indurre il discente ad apprendere e modificare e anche potenziare in modo proprio la propria tecnica di apprendimento facendo leva anche sulle disposizioni positive quali per esempio vi vi dico dei termini importanti la resilienza la prontezza la reciprocità e quindi offrendo al tempo stesso un ventaglio di possibili azioni di intervento e quindi l'insegnamento dell'imparare di imparare deve attuarsi attraverso il dialogo pedagogico messo in atto nella relazione docente-allievo ed è va come abbiamo già detto ad interferire nella dimensione cognitiva del discente ma va anche ad impattare con le variabili personali sempre del nostro discente quali ad esempio la motivazione la prospettiva di realizzazione e tutti gli aspetti che interagiscono sull'apprendimento e infatti io ribadirei la capacità da parte dello studente di mantenersi resiliente gestendo il proprio apprendimento e la propria carriera quindi finalizzato all'apprendimento però lungo tutto l'arco di vita quindi lungo tutto il progetto di vita è riferito anche alla carriera dello studente ovviamente la scuola non ha un focus che stabilisce insomma un arco temporale dell'imparare e dell'apprendimento abbiamo detto che questo arco temporale deve essere aperto a tutta la vita inoltre possiamo anche affermare che l'imparare ad imparare ripeto i concetti chiave è la capacità di far fronte a ciò che è incerto a ciò che è complesso ovviamente possiamo anche sostenere che facilita lo stare bene in classe lo stare bene con se stessi lo stare bene emotivamente lo stare bene da un punto di vista di salute fisica e mentale favorisce la capacità di empatizzare e di gestire un conflitto è collegato anche alla didattica mentalista ve lo metto virgolettato che sposta quindi il baricentro dell'azione didattica o comunque non è che lo sposta completamente considera sia l'azione didattica dalla disciplina quindi dall'imparare tutta tutto quello che concerne il patrimonio culturale di quella materia ma è anche incentrato sulla sullo studente quindi considerato in una valenza ontologica in quanto persona abbiamo detto che viene comincia a l'insegnante comincia ad analizzare il processo di intervento nei confronti dello studente anche basandosi su concetti pedagogisti del filosofico pedagogisti inerenti alla gestione mentale dell'apprendimento tutto ciò ci permette di anche impostare mirate ed efficaci azioni di potenziamento come abbiamo detto di tipo anche metacognitivo e poi sicuramente se andiamo a fare un confronto tra quello che noi diciamo e quello che è la realtà come molti di voi giustamente commentano ovviamente le realtà scolastiche dove tale approccio didattico viene sperimentato sono veramente poche questo non significa però che sia poco importante questo non significa che sia poco valente questo significa che forse siamo abbiamo noi colleghi la capacità e l'opportunità di dare quel qualcosa in più che serve che servirebbe ma che purtroppo manca allora come mi è solito fare alla fine del video ringrazio sicuramente tutti voi se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su qui iscrivetevi al canale molti dicono meno male che mi sono iscritto con la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video sulle dirette live che ci saranno qui c'è la possibilità anche di condividere il video e più sotto c'è la possibilità da parte di tutti voi di interagire lasciando dei commenti ringrazio Sara ringrazio Geni ringrazio Laura ringrazio Ross in questa fase molto attivo il gruppo la scuola siamo noi il gruppo scuola cultura Francesca Pisano ringrazio tutte tutte le persone anche Radice Cubica ovviamente tutte le persone tutti i gruppi tutte le comunità anche Gretel ovviamente che costantemente continuamente cercano di migliorarsi cercano di imparare cercano di utilizzare questo materiale per poi crearsi un proprio libro un proprio quaderno pieno di risorse inerenti a tutto ciò che verrà chiesto nel concorso io penso che sicuramente questa capacità di resilienza questa capacità di perseverare è chiesta anche a noi quindi mi raccomando non è che adesso che non si parla meno del concorso né ci mettiamo insomma ci corichiamo sugli allori cominciamo a studiare di meno ci pensiamo di meno perché poi quando tipicamente quando poi si ricomincia a parlare del concorso tutti dicono oddio mio sono agitato oddio mio ma come farò oddio mio non ho più tempo devo fare tutto e subito ecco il tutto e subito non esiste esiste la continuità esiste colui che ama raggiungere un obiettivo percorrendolo passo dopo passo solo così è possibile riempire anche lunghi percorsi di cammino e di conoscenza che sono sicuramente fondamentali poi per tutto il resto della nostra carriera ed io con questo vi mando un caro saluto da Francesco Samani al prossimo video grazie